Ci andiamo subito perché a Desenzano c'è un altro ospite insieme a Peppe Di Stefano. Sì, siamo con Alberto Frison, sempre da Desenzano, è il nuovo portiere del Catania e la felicità si è vista il giorno del trasferimento perché ti si è fatto una foto con la tv con l'ultimo oro dove si è scritto che Frison era il nuovo giocatore del Catania. Catania, tanti anni di Serie A, ma per te la Serie A dopo tanta gavetta, forse non troppo, ma dicono che sei un predestinato. Sì, sono sicuramente molto contento di essere venuto a Catania perché in una piazza così importante posso ancora migliorare e so che la gente si aspetta tanto da me e io cercherò di dare sempre il massimo per questa squadra. Sono arrivato con molto entusiasmo e ringrazio la società che mi ha dato questa opportunità e adesso starà a me di mostrare il mio valore. Hai notato che in questi anni il Catania in Serie A ha sempre lanciato giovani che poi sono arrivati anche in alto? Sogni anche tu magari una carriera ad altissimo livello? Beh certo, io sono venuto qui con tanto entusiasmo e sono convinto che posso fare bene perché credo nei miei mezzi e anche con l'aiuto dei miei compagni farò sicuramente bene. Quindi arrivare in una piazza così fa sicuramente un grande onore e quindi cercherò di dimostrare tutto il mio valore. Prima abbiamo avuto in diretta Moscardelli che aveva tatuato il giorno dell'esordio in Serie A e del primo gol guarda caso contro il Catania. Tu in caso di esordio cosa sei pronto a fare? Magari in caso di esordio mi farò anche un tatuaggio, però l'importante è che quest'anno voglio far bene, voglio contribuire agli obiettivi del Catania e quindi sono pronto e darò la mia disponibilità al mister e alla squadra. Grazie ad Alberto Frison, a voi. Grazie, grazie a tutte e due, anche Peppe Di Stefano naturalmente oltre a Frison.